ciao a tutti da iota e bentornati sul canale oggi proveremo aluf alof non so come si pronuncia ma andremo a provare questo gioco ok lo proveremo in coop e quindi due giocatori con l'aiuto di puki puki che oggi è qui con noi e proverà insieme questo gioco in coop perché questo gioco è molto divertente in coop perché lo so perché si non è una preview perché l'ho giocato ma non ha registrato l'audio quindi lo stiamo rigiocando e andiamo in coop cosa sta succedendo a poi switchare così io sono quello di qua ma guarda cosa è successo ah sono i livelli che abbiamo fatto ok partiamo da un livello tipo da qua saltando l'intro ok partiamo perché all'inizio scusate l'intro più all'inizio c'è un tutorial che ti spiega tutti i comandi e tutte le varie cose che abbiamo fatto e quindi le saltiamo tipo questo è l'ultimo test del tutorial dove ti dice che lo space bar ti può portare in basso ok praticamente è un tetris un po diverso dal tetris un tetris figurativo possiamo cambiare il quadro e andare dalla parte dietro dove vedete appunto un altro set di blocchi e quello che dobbiamo andare a fare noi è completare quel quei riquadri che ci abbiamo di sopra quindi fare le stesse figure dove io sono scarsissimo a pochi pochi è bravissima allora tipo così facendo casino io allora posso fare una t che così mi serve no no vedi ok completo così e completando un set a 5 se non ho capito bene così si creano delle onde dove c'è il nostro colignetto la sopra quelle onde a potrebbero essere buone e o cattive dipende dal livello che andiamo a giocare allora vediamo un attimo se riusciamo a fare qualcosa cosa devo fare io o come sapevo la mia collaboratrice pochi pochi riesce a fare le cose io no e abbiamo sbloccato ok ce ne servono altri due e si le ho sempre un passo avanti rispetto a me perfetto io faccio cose a caso cose a caldo ok allora cosa che devo fare una l questa è una l no perché c'è il posto sotto quindi non va bene ok cambiamo livello quadro lo giriamo e facciamo tutto da capo ok ci cancelliamo il bianco così abbiamo qualcosa su cui lavorare allora quindi e no è così non va bene però puliamo ok allora blu ho fatto la mano è al contrario perfetto si rumori sono altissimi e che dobbiamo fare è quello lì è quello più incasinato che il pezzo completo di tetris praticamente però forse posso farlo di qua vediamo un po eh mi servono dei blu così e voilà a meno ne ho fatto uno punto della bandiera victory andiamo e continuiamo per il prossimo livello sì perché a livelli e c'è anche il multiplayer online due contro due praticamente questa è una sfida noi dobbiamo completare prima di lui perché tu adesso ce l'hai già completato io no prima di lui e riempirlo altrimenti ci frega ok ok completato dai l'ultimo pezzettino è il nostro e vai e passiamo al prossimo livello e qui abbiamo un mini boss che è rappresentato da quella cosa fucsia viola qual colore lì esatto se sentite questa vocina ogni tanto sottofondo è pochi pochi che ci aiuta in questo gameplay allora dobbiamo fare più danno possibile praticamente con le onde ogni volta che noi facciamo un'onda gli togliamo un cuoricino quindi un punto vita al al boss e li facciamo danno proprio così crudeltà piena giallo ce l'ho di qua potevo anche tenermi di là così naturalmente facendo sempre le figure che ci ha insegnato il tutorial oppure sempre dei blocchi da massimo minimo cinque tipo così cosa ci manca all'ultimo madonna mia qua l'abbiamo l'abbiamo ucciso troppi colpi guarda che onda alto ho fatto grande da qui in poi la faccenda si incomincia un po' più a complicare perché qui abbiamo uno scudo che gli da difesa e dei cuori lo scudo si rigenera sempre quindi dobbiamo essere veloci a colpirlo così bam togli lo scudo e poi li fai male madonna mia che che combo quindi il primo colpo è per distruggere sempre lo scudo e mi sa che lo abbiamo ucciso no ok allora ho sbagliato io gli ho aggettato uno ce l'hai uno da dargli no ce l'ho anch'io ce l'ho anch'io subito dopo è un'ondina piccola no tu ce l'hai uno da dargli un colpettino io subito pack vai che arriva l'altra ondata troppi colpi leggeri dobbiamo sincronizzarci prepariamoci i colpi e poi li lo diamo tutti e due insieme allora eh aspetto che così vado e vai anche tu vabbè ci sono anch'io ta 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 bam 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 e vai miniboss è andato ed è sempre più temerario poverino qua e poi e poi e poi così e poi così eeeh no pensavo di averlo confitto di avercela fatta invece no ho sbagliato stavolta due ce la facciamo uno togli lo scudo e uno lo uccide sì prossimo livello questo è quello più complicato dove poi ci siamo accorti che purtroppo non avevamo registrato l'audio ovvero dobbiamo completare solo ed esclusivamente le figure che vedete in alto quelle bianche ok che sono quei pallini bianchi strani per salvare lui ha uno solo di vita se noi sbagliamo e li mandiamo un'onda diversa da quei pallini lì gli facciamo male e lo uccidiamo e perdiamo quindi vediamo se riusciamo a fare almeno quello lì questo dovrebbe essere uno faccina che sorride e uno è andato adesso dobbiamo fare il ponticello ok oppure quell'altro questo questo non va bene ok quindi devo fare il ponte naturalmente si può continuare a fare le stesse figure di prima allora chi è stato è morto ok sì siamo stati sconfitti non è un problema perché si può fare benissimo restart e si riparte però si riparte da capo allora così così questo possiamo fare così no dannazione sbagliato ok questo è questo completiamolo portiamo a sinistra per agganciare il pezzo poi devo fare il ponticello lo possiamo fare col blu vediamo è questo qua è questo qua serve a niente mettiamo qua giallo giallo rosso 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 ok la festa già da fatto sai che lo ucciderò quindi devo sbicciare di qua allora cosa ci manca il ponte ho fatto la stessa figura ho fatto la stessa figura in modo da pulire un po' il ponticello andiamo a che riesco a farlo col rosso allora ottimo per la t qui cosa ci manca il ponte eh ma il ponte non riesco a farlo un po' difficile una due eeeh rifacciamolo di nuovo perchè poverino si è beccato una slecca ok allora facciamo così 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 questo ok è il primo è andato ok possiamo rifarlo due volte non succede nulla facciamo così e lo rifacciamo anche una terza volta perchè? perchè sennò è un casino allora vediamo di fare la t che è l'ultimo pezzo che ci manca la t praticamente giusto? oddio l'ho fatta al contrario ops 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 ho rovinato tutto ho rovinato però c'è 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 quasi stavamo andando benissimo e poi iota come al solito allora mi preparo i bianchi per fare la t il ponte no ho sbagliato mannaggia allo space bar ho completamente sbagliato però posso fare così intanto mi confondo con i comandi che sono tanti e qua anche qui ho sbagliato così questo non va bene però posso fare uno due tre e un blu qua e sì l'abbiamo fatto insieme praticamente eeeh questo qui se li farò male quindi li mettiamo di qua questo non va bene questo va benissimo questo lo mettiamo di qua questo mi sta bene questo bianco qua no perché va da 5 quindi non va bene questo potrebbe andar bene mi serve un bianco e lo abbiamo finito se non rovino tutto eh ce l'abbiamo dovremmo farcela si meno male l'ansia l'ansia di rovinare tutto ok fatto 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 ci siamo ci siamo ci siamo eh hehehe ok continua e vediamo il prossimo livello ahhh il boss si sta sta diventando sempre il boss ci attacca sta diventando sempre più forte il boss ok ottimo coordinati a più non posso facciamogli male ma ma abbiamo sterenato cioè non ha avuto il tempo neanche di fiatare è più difficile il coniglietto esatto il coniglietto è veramente difficile perché se ne sbagli uno c'è da però adesso abbiamo la vita sì e quindi a dobbiamo fare quelle figure rosse come sono scusami ste figure ma sono stranissime quelle figure lì c'è che ho già sbagliato sì allora no allora facciamo così questo va bene io posso fare così mi sto confondendo allora lui vuole questo così ok ci sono quasi lo sto incominciando a capire ecco non era quello che volevamo ah ma non succede nulla se sbagliamo no non è come il coniglietto ah ok allora posso fare quello che voglio il coniglietto è difficile per quello eh e questo ah ho sbagliato vabbè se possiamo fare quello che vogliamo allora ciao Ones che cosa è successo? cos'è quella roba lì? poi questo qui mi manca un giallo e poi ho fatto anche quella no ce n'era uno in più mannaggia ok allora blu lo faccio con il blu blu e no c'ho il giallo c'è il giallo c'è il giallo c'è il giallo non va bene non va bene non va bene allora eh allora cancelliamo un po' di roba va oh grande 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 ehi stai fai così che cosa? sono pallini sono pallini no credo che siano quei cosi di tessitura lì ci vuole tantissimo non lo so perché ci sta tanto a caricare però l'abbiamo fatto e vai il prossimo livello che dobbiamo fare una L per uccidere il corvo no ma il corvo è veloce però attenzione subito L per uccidere il corvo ok ah una L a sinistra attenzione L a sinistra D4 giusto? così? sì però doppia deve essere vedi? esatto ah no c'ha 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 attaccato ma come si permette? ci sta facendo male ciao corvo ciao 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 è il corvo che scende e se ne va no come resta abbiamo perso pensavo che avessimo vinto e invece no abbiamo sbagliato tutto ah perché è dall'altro no l'ho fatto giusto io vabbè 2 ok va bene questo questo ci dobbiamo coordinare con gli attacchi secondo me il bianco e il rosa ce l'ho di qua no ho sbagliato vabbè e gli manderò una cosa di queste inutile è esatto è una cartolina abbastanza inutile non ho capito se te l'ha annullato per qualche strano motivo non lo so l'ho fatta anch'io ah glielo annulliamo quando lui lo fa noi lo possiamo annullare anullare siamo nell'acquitrino senti le rane ok vediamo se no do dobbiamo tolgerlo quello lì ci sto provando anch'io dai sono arrivato anch'io sembra facile ma è un po' difficile sembra talco ma non è faccio un accaso per forse siamo morti per colpa mia abbiamo vinto ma abbiamo vinto ma abbiamo vinto attenzione pensavo che avessimo morto che avessimo morto e qui ci abbiamo il dragone il super mega ball e vabbè se inizia già lui ci uccide ma che è abbiamo ah ci ha tolto la lui parte avvantaggiato ha con quello a ci riprendiamo la vita ok va bene intanto gli do una botta abbiamo bisogno anche di recuperare la vita quindi beh mi sa che ho fatto una L un po' troppo L ma più grande è l'onda e più li facciamo male cioè più blocchi riusciamo a a fare più li facciamo male eh sì 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 ho notato adesso ah eh ho capito qual è il disegno che abbiamo l'ho appena intravì ce l'abbiamo lì i quadrettini sono è la nostra vela praticamente ci sta facendo malissimo è l'ora di ricaricarci un attimo di vita ma se facciamo l'onda con la sua onda no no non riusciamo a rompere la sua onda quando facciamo la onda giusto è un attacco che ci arriva sempre allora facciamoci un po' di vita nel frattempo ok ed facciamogli male dai però è terrorissimo quel drago sembra triste poi ciao ciao dragone ciao ciao è stato bello mi dispiaciuto bene signori io dico e penso anzi che finiamo qui perché il tempo è abbastanza volato e sì perché ci siamo divertiti ci piace e ci siamo divertiti naturalmente è solamente un parere personale non lasceremo mai nessun commento o giudizio su questo gioco non è una review perché questa è una preview e e vi lasciamo in questo caso siamo in due quindi vi lasciamo parliamo al plurale vi lasciamo il link in descrizione se volete volete darvi un'occhiata e come sempre se vi va lasciate un commento o un like sono sempre bene accetti e se vi va iscrivetevi al canale per supportarlo come sempre siete mitici ed alla prossima bai 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 ciao 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 ciao